Buonasera a tutti. L'interlocuzione con il Presidente Incaricato Draghi è proseguita e abbiamo ascoltato dal Presidente Incaricato le idee base di programma, le riforme, gli ambiti dentro il quale intende esercitare l'azione di governo. Non starò ad elencare, visto che i colleghi che mi hanno preceduto hanno fatto un'elencazione di tutte le proposte, ma cercherò di focalizzare su quelli che per noi erano i punti salienti, le questioni che avevamo posto come fondamentali, come punti di partenza, come cornice in cui esercitare questa azione di governo. Abbiamo trovato, devo dire, nelle proposte messe in campo dal Presidente Incaricato una serie di spunti sulle cose che avevamo già anticipato nelle precedenti consultazioni. Ma la cosa che più, la più importante, quella a cui tenevamo di più, era che l'azione di governo, che tutta l'azione di governo si concentrasse e avesse come pilastro la transizione ambientale e la transizione energetica. Quindi abbiamo insistito su questa idea della creazione di un ministero, superministero, che coordini tutta l'attività riguardo alla transizione energetica, le infrastrutture, i trasporti, tutti gli investimenti che siano tutti indirizzati in politiche che mettano l'ambiente come filtro attraverso cui esercitare tutta l'attività di governo. Abbiamo avuto rassicurazioni che si sta, perché sta immaginando un assetto istituzionale, quale può essere l'assetto istituzionale che può prefigurare questo tipo di approccio. Quindi che sia un assetto di modifica dell'assetto istituzionale della configurazione del ministero dell'ambiente, un accorpamento o un coordinamento di altro tipo. Insomma, questo è un lavoro ovviamente che ha preso in considerazione. Ci ha anche raccontato che è andato a verificare come l'esperienza francese, da cui è stato preso spunto, che ha appunto messo sotto un unico ministero le tre aree, quindi infrastrutture, trasporti, energia. Ed è un ministero che ha quindi l'ambiente come filtro delle proprie attività. Sul reddito di cittadinanza abbiamo ribadito l'importanza e abbiamo avuto la rassicurazione che oggi più che mai è necessario rafforzare le misure di sostegno e cercare anche di fare razionalizzazione, di creare misure universali che possano mettere al proprio interno quelle che sono oggi tutte le misure di ammortizzatori sociali o anche di sussidi di vario tipo, che possano diventare quindi un sostegno universale non solo indirizzato ai lavoratori, in cassa integrazione, a chi non lavora, ma a tutte le figure che oggi hanno difficoltà ad essere inserite nel mondo lavorativo. Perché il tema del lavoro, come avete già sentito, è il tema principale probabilmente con cui ci dovremmo confrontare, la principale sfida che avremo appena terminerà, il blocco dei licenziamenti, che ci auguriamo di poter prolungare il più possibile, comunque dovrà essere affrontato. E si affronta con gli investimenti, che è l'altra parola chiave di questa ipotesi di governo è quella degli investimenti, investimenti che devono partire dal PNRR, cioè il piano, il recovery plan che al suo interno contiene gli investimenti necessari, gli investimenti necessari per rilanciare questo Paese. Abbiamo avuto anche in questo senso rassicurazioni che il recovery plan partirà da quello che c'è già, è quello nel quale, grazie al lavoro del precedente governo, si è ottenuto che dai 700 milioni iniziali siano stati stanziati 3 miliardi per la giustizia, quanto fatto dal ministro Bonafede o che siano arrivati quasi 40 miliardi per il lavoro o i soldi sulla scuola, sono tutte misure che sono state messe in campo nel recovery plan grazie al lavoro del governo precedente, dei nostri ministri e che quindi è da lì che bisogna partire, quindi nessuno stravolgimento come qualcuno magari avrebbe voglia di fare, ma è da lì che si parte. Questi sono gli elementi chiave che oggi vi vogliamo raccontare, sui quali abbiamo avuto anche delle rassicurazioni. Abbiamo affrontato anche il tema del MES, che come sapete è un tema anche su cui abbiamo una posizione, non solo noi ma la maggioranza del Parlamento, è stato molto chiaro anche in questo senso, una misura come il MES è una misura che va fatta se c'è un piano, se c'è una convenienza, se ci sono dei motivi per utilizzarlo e non ci sono ad oggi né un piano, né un motivo, né anche una convenienza economica per immaginarlo come strumento da adottare. Infatti non è stato neanche minimamente citato nella sua elencazione di intenzioni di programma dell'azione governativa. Questo è il tutto, ovviamente adesso affronteremo anche le prossime ore, i prossimi giorni, verificheremo anche tutto l'aspetto complessivo, compreso anche il tipo di configurazione di governo che intende adottare il professor Draghi e metteremo, come voi sapete, faremo parlare i nostri iscritti che ci daranno indicazioni in questa direzione o in un'altra. Come abbiamo sempre fatto per i precedenti governi e anche in questo caso, contiamo nell'intelligenza collettiva per fare la scelta giusta per l'interesse del Paese e non per altri interessi.